Il Comune di Napoli L'inaugurazione dello Stato San Paolo in casa per sabato Lo spogliatoio sarà in condizioni più che accettabili Se non ottime Quindi diamo per buono le dedicazioni di Basile Quindi probabilmente è stato un caso un po' amplificato Altrimenti per il resto andate a chiedere a Basile e agli altri Il Comune quello che doveva fare l'ha fatto L'ha fatto in tempi record E abbiamo avuto i complimenti da tutti a livello internazionale Compreso dalla società calcionale Però se l'aspettava un comunicato addirittura dell'allenatore Ti fermo qua, non lo so Vediamo perché l'ha fatto Io mi fermo qua Grazie 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 Grazie